Io, Emi e la Luna Magica, oggi qui al Museo di Pitagora la presentazione di questo suo nuovo libro. Sì, dicevo prima sono abbastanza emozionata. Questo quindi libro appartiene a una nuova stagione della mia vita, anche professionale. È un libro che in qualche modo si è lasciato scrivere, perché è un libro in prima persona, il protagonista è Chris, infatti il titolo Io, è Chris che si racconta, racconta la sua storia di crescita e un bimbo come gli altri, poi adolescente, che cerca il suo posto nel mondo. Perché è la Luna Magica? È la Luna Magica perché è una favola, una favola moderna, che come tutte le favole aiuta a crescere. E lo spunto nasce da una favola di Calvino, Giricoccola, in cui c'è questa Luna Magica, insomma, che si arrabbia anche quindi un po' con una delle sorelle, insomma, la più bella. E da lì questa Luna che rappresenta un po' la luce su ognuno di noi. Infatti Chris a un certo punto dice perché alla fine ognuno trova la sua Luna Magica, ossia il suo posto nel mondo. È un libro che vuole invitare un po' tutti quelli che lo leggeranno a riflettere. Sì, assolutamente, perché, guardi, questo si inserisce nella cosiddetta letteratura per l'infanzia, quindi o giovanile, ma lo sappiamo bene che questa letteratura poi è rivolta a tutti gli adulti. Tante favole per bimbi, per ragazzi, poi appartengono alla letteratura degli adulti. Certo, è rivolta a ognuno di noi, è rivolta agli adulti, è rivolta agli educatori, insomma, ci sono tantissimi spunti. Diciamo che è un altro modo di affrontare il mio mestiere, in cui sono però, insomma, più libera anche di dire ciò che penso. Questo libro ci può permettere di recuperare i valori, la strada che abbiamo messo da parte con il lockdown, con tutti i problemi che sono emersi? Sì, assolutamente, è una luce, insomma, diversa anche sul pedagogico, sull'educativo. Io lo ripeto sempre, per essere educatori bisogna innanzitutto amare. Sembra scontato, ma non è così. Cioè, per essere educatori, no, bisogna avere la capacità di mettersi nell'altro, di essere empatici. Questa è una condizione che si deve avere, poi il resto, insomma, si impara. Lei è editore a Cosenza? Sì, editore a Cosenza, ma la sede legale e operativa della casa editrice è un punto di partenza, non un punto di arrivo, è un balcone affacciato sul mondo. Che ci dice su questo libro? Beh, io conosco la scrittrice Maria Fontanardito da molti anni. Si cimenta in un'opera narrativa di grande delicatezza e di grande sensibilità su un argomento che è un argomento di formazione e che deve incontrare non solo la lettura, ma anche la percezione proprio del contenuto stesso dell'opera. che trova come centralità la disabilità che diventa per l'autrice, ma che deve diventare per la collettività, normalità e sviluppo di un principio, di un atteggiamento di generosità e di comprensione verso coloro che in apparenza sono stati meno fortunati di noi. Quindi è una riflessione ad alta voce? È una riflessione ad alta voce perché pubbliciamo un libro, quando si pubblica un libro si riflette ad alta voce, altrimenti non l'avremmo pubblicato. Incontriamo l'elettrice, i lettori, incontriamo il pubblico e quindi il confronto ad alto o a bassa voce, l'importante è che sia comunque una voce che penetri e che trovi nelle persone accoglienza.